Bello ragazzi qua Michael e bentornati in questo prossimo video Allora ragazzi come potete vedere ho arrivato a banca Stiamo ripulendo Io ho fatto una cosa tipo De genere Adesso lì c'è troppa roba ma Non ti la posto Ehm Ho teccato da play E niente ragazzi Collegato i fili li partiremo in mezzo Perché volevo giocare un po' a Minecraft Perché Erano mesi che non ci giocavo più quindi E adesso forse Riprenderò a giocare a Call of Duty GTA 5 Ehm Su PC Che ancora non era stato attaccato Era scarico E niente ragazzi Ehm Oggi faremo una cosa di molto importante Adesso è importante Ricordate tutte quelle caramelle che c'erano prima Beh adesso non ce ne ho più neanche una Più neanche una Sì una c'è una E questa qua ragazzi Se non ci guarderete Guardate non c'è più niente Niente In 200 caramelle Ehm Ovviamente non le ho mangiate solo io Ehm Ragazzi lo andremo a mangiare insieme Guardatela Bene E ragazzi tenteremo qualcosa di soffocativo La manderemo giù Ragazzi io non volevo fare questo video La manderemo giù Così questa ci starà in pressa Ho paura Guardate che mi sentiamo I capelli Ecco Pronti ragazzi Non mandiamo giù Ah 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 Andate giù ragazzi Vedete che io faccio Vedete Qui non ce l'ho Qui non ce l'ho Qui non ce l'ho Qui non ce l'ho Ragazzi Potete vedere che respiro benissimo Ragazzi Visto che non so neanche tagliare i parti Ragazzi io non ho tagliato nessuna parte Dove io sputtavo Dopo dico Non saprei neanche fare Quindi Allora ragazzi Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Spolliciate Condividete Iscrivetevi Qua da Michael Computer La play E le caramelle Che non ci sono più C'è con me E tutto ragazzi E Armadio No Computer Non so perché computer L'ho appena acceso Si sta accendendo E' acceso Pia 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 Pia